Ciao a tutti, oggi vi propongo un esercizio sul pavimento per rafforzare i muscoli delle braccia, pronti? Allora partiamo con i piedi e scendiamo con la testa parallele al medio, da qui andiamo sui piedi, quattro volte e torniamo con un salto e ritorniamo su. Facciamo questo esercizio quattro volte, poi facciamo una pausa di un minuto e lo ripetiamo. Quindi, testa e pavimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorniamo e recuperiamo. E così per quattro volte, facendo una pausa di un minuto tra un esercizio e l'altro. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!